Siamo qui con la scrittrice Susanna Tamaro per farle qualche domanda. Vorremmo chiederle, lei parla della morte come se non fosse una cosa da temere, ma è così temeraria oppure nel profondo anche lei ne ha paura? No, no, da temere sicuramente, io ho il terrore come tutti noi di morire, però penso che non sia qualcosa di definitivo, penso la sensazione che sia un passaggio verso un'altra dimensione misteriosissima della vita. Grazie. Allora, il suo libro forse più conosciuto si intitola Va dove ti porta il cuore. Per lei cosa simboleggia questa frase e si sentirebbe di consigliarla a un giovane che vuole trovare uno spocco nel mondo del lavoro, vuole avere una carriera? Assolutamente, Va dove ti porta il cuore è la cosa più importante, prima devi capire chi sei, dunque sapere cos'è il tuo cuore, cosa vuole il tuo cuore, una volta che il tuo cuore sa cosa vuole tu devi andare nella direzione che lui ti dice e dunque è importantissimo quando sei giovane sapere dove ti porta il cuore e andare dove ti porta il cuore, però prima devi capire cosa ti dice il tuo cuore. Ringraziamo Susanna Tamaro per l'intervista, qui è tutto.